Vediamo quindi la regia di mostrarti queste immagini della vittoria del Milan per 2 a 0. Ecco il Milan come ricorderete, giocato quella sera in maglia bianca. Una partita... Callo di Brennan che ha spinto alle spalle Prati, calcio di punizione in favore dei campioni d'Italia. Corto Schnellinger verso Trappatoni, attraversione di Trappatoni, toccato fuori aria da Fulc. Ripreso però da Lodetti, Trappatoni. Col posto di Trappatoni a Mrim, anticipato da Stiles. Colpo di testa di Sormani, poi di Fulc, poi tiro di Sormani. Proprio tiro di Sormani, il primo è stato respinto da Fulc, sul secondo, Sormani ha fatto cento. Il Milan è in vantaggio al trentatresimo minuto, ecco abbiamo rivisto, abbiamo rivisto il gol di Sormani. E' il trentatresimo minuto del primo tempo, Milan 1, Manchester United 0, ha segnato Sormani. Grazie, cosa le esiste? Lunga rincorsa di Prati, che nel primo tempo ha tirato una bella punizione parata dal portiere. Amrin, deviazione miracolosa di Kirkpatrick, rimette la palla in avanti Lodetti. Fogli, traversone al centro dell'aria, pinta di Prati, tiro di Amrin, per il doppio dell'inizio. Amrin, la seconda pianta, bellissima relazione della Milan, tra destra, iniziata da Lodetti. Sul frasco di Lodetti, una stuta finta di Prati, ha consentito ad Amrin di tirare sulla sinistra del portiere. 2 a 0 per il Milan, è il terzo minuto del secondo tempo. Albor di Sormani, segnato al trentatresimo del primo tempo, si è aggiunto ora quello di Amrin, al terzo del primo tempo, 2 a 0 per il Milan.